San Valentino stasera Le dispiace passarla da sola Amore, Robby viene con noi al cinema, ok? Perché non resta da casa? Che sei pazzo, se restiamo a casa dobbiamo parlare E tu non parlai, se non parlo mi devo accogliare Beatrice Benassi Roberto Marino Robby, Roberto Mi dica di lei Cleptomane Narcolettica Mi capita soprattutto quando mi emoziono Con il suo compagno si emoziona E che mi piacerebbe conoscerla meglio Sono settimane che mi corteggia regalandomi delle cose assurde Tempo perso, non mi fa per te Che ne sai tu? Istinto Basta, ho detto basta, basta, no? Persona assolutamente da evitare Perché io sento proprio di avere delle cose in comune con questa ragazza, capito? L'amore lo riconosce dall'odore, no? E lei ha l'odore della donna della mia vita L'odore? Il profumo dell'amore? Ma chi sei, Gigi D'Alessio? Secondo me ti farebbe bene ogni tanto lasciarti andare Proprio a mollare un po' Mi guardano tutti! E' segretto! C'eresti un buon papà a tu? Adesso si è messa pure in testa ad avere un figlio Forzarci l'oro! Questa è la classica storiella di sesso Te la vedremo ancora un paio di volte E poi puff, scompare No? Secondo lei ha avuto un'altra amnesia Beatrice, Bea Sono Roberto Sapessi per quanto tempo ti ho cercato, Bea? Chiedo bene, abbiamo avuto dei problemi nell'ultimo periodo E non rammento tutti gli individui con i quali solevo intrattenermi Penso positivo, scusa Magari ci si libera la stanza E cosa ci vogliamo fare? Ce la vogliamo affittare Grazie a tutti!